E' venuto a mancare nella mattinata odierna Ferdinando Volpe, uno dei più grandi imprenditori di Agropoli. Stimato e apprezzato da tanti, in Italia e all'estero, Ferdinando da mesi non stava bene e ha combattuto come un leone per restare legato alla vita, quella stessa vita che lui ha sempre amato. Simpatico, astuto, buono, irrefrenabile e lavoratore, aveva sempre il sorriso pronto e una parola di conforto per tutti. Ferdinando Volpe si è distinto negli anni per il suo impegno nel campo della Sartoria, tanto da creare un'impresa importante, conosciuta in tutta Italia e che nel tempo ha dato lavoro a moltissime persone, di Agropoli e del Cilento. La sua positività nell'affrontare le mille difficoltà della vita resteranno ad esempio per tanti. Dispensatore di mille consigli e pacche sulle spalle, Ferdinando non si è mai scoraggiato, neanche quando la vita gli ha riservato mille problemi, molto legato alla sua numerosa famiglia, ai fratelli, alle sorelle, a sua moglie Luciana che amava tantissimo, ai suoi adorati figli, Raffaele, Pasquale, Angelo e Yolanda, ai quali è riuscito a trasmettere valori importanti che porteranno avanti nel tempo, continuando ad emulare il suo esempio, la sua passione, la sua storia. Ferdinando ci mancherai molto, ci mancheranno le nostre chiacchierate, i tuoi preziosi consigli, le tiratine d'orecchio per crescere, i tuoi consigli di vita, ma soprattutto ci mancherà il tuo sorriso buono, la tua persona semplice e generosa, il grande uomo che sei stato. Buon viaggio Ferdinando, la redazione di Cilento Channel è vicina a tutti i familiari per la grande perdita.